L'attività fisica è quel tipo di movimento che noi facciamo per mettere in azione tutti i muscoli del nostro corpo con uno scopo non di spostamento. Se questo poi viene finalizzato ad una competizione, a un risultato, seguendo delle norme, delle regole che sono quelle sportive, essendo vestito in una certa maniera, cioè io mi vesto per giocare a pallone, mi vesto per andare a nuotare, sono due condizioni diverse, quello diventa uno sport. E quindi questo prevede un'organizzazione del tempo, un coach che ti dia le informazioni giuste su come devi finalizzare il tuo movimento per ottenere una prestazione corretta, magari vincente. Movimento, attività fisica e sport si possono pensare come elementi progressivamente sempre più raffinati. Dal semplice movimento del bambino che gattona per proseguire fino al bambino che corre, il bambino che con una palla fa delle cose a volte bellissime, insieme ai suoi compagni, ai suoi amici entra anche il discorso socializzante. Su questo ci sono delle tabelle anche precise, però col difetto di essere delle tabelle, quindi diventa un po' una ricetta da seguire e non sempre viene seguita con attenzione. Il bambino ha un movimento spontaneo, voi vedete un bambino che si sposta da una stanza all'altra, corre, non cammina. Ha il movimento spontaneo e poi il movimento organizzato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e poi organizzazioni che riguardano il bambino sia statunitensi che europee, prevedano che il bambino debba avere un movimento di livello superiore a almeno 60 minuti al giorno per 5 giorni a settimana, non è poco. Non è poco perché è un lasso di tempo piuttosto lungo, può anche essere frazionato e quindi avere spot di movimento di varia natura, di vario tipo e un bambino che riesca a fare 45 minuti al giorno sarebbe un dato importante, praticamente sarebbe un'ora e mezza di allenamento tre volte alla settimana.